Una serie web per lanciare la nostra città come location ma anche come protagonista. Uno strumento importante per il nostro marketing, come si svilupperà e qual è il suo valore? Una cosa nuova, molto bella, apprezzata e apprezzabile che ci dà emozioni. Per l'immagine della città è una cosa importante proprio per diffondere, cercare di portare il maggior numero di persone a conoscere non solo le nostre bellezze ma anche la nostra storia. Grazie a questa webserie la città farà il giro del mondo. Sì, la tecnica ormai comunicativa attraverso il web anche per film di questo tipo o comunque per una narrazione ampia come quelle delle puntate previste, dieci da questa serie, due riguarderanno la nostra città, ci permetterà di andare su palcoscenici importanti, Stati Uniti, Inghilterra, Germania, Francia, ovviamente in Italia. La città sarà sottotitolata, quindi questo è un altro elemento in più per far sì che venga fruita. Come è nato questo progetto e perché proprio la Spezia? Beh, è nato dalla volontà di promuovere dei territori che sono particolarmente belli e forse non troppo noti e la Spezia in particolare perché io sono spezzino pur vivendo in Toscana quindi avevo desiderio di far vedere la mia città. Ci sono già due stagioni in cantiere e la Spezia sarà protagonista. Gli ultimi due episodi della prima stagione saranno girati alla Spezia e tutta la seconda stagione sarà interamente girata alla Spezia. Ci saranno attori di rilevanza internazionale, giovani ma comunque già con un bel curriculum alle spalle. Sì, sono tutti attori che arrivano dal mondo del cinema e del teatro che hanno lavorato anche a livello internazionale e abbiamo anche un'attrice francese. Importanti grandi nomi dietro a questo progetto, aziende italiane ma ramificate a livello internazionale è anche un nome, uno dei big a livello mondiale dello spettacolo. Sì, abbiamo molte aziende multinazionali appunto conosciute nel mondo, la famiglia Bocelli che ha aderito a questa iniziativa e anche un gruppo inglese, Terra Firma, che è il gruppo che ha acquistato la EMI Records, la casa discografica.